Quarta classe, luglio 2019, Emancipazione, Istruzione e Libertà, seconda parte. Virginia Woolf, Inghilterra 1882, la sua relazione con Mary Wollstonecraft, Inghilterra 1759 e con Christine de Pisan, Venezia 1364. Circa vent'anni dopo queste grandi artiste, Camille Claudel e Suzanne Valladon, e sessanta dopo Georges Sand, veniva al mondo Virginia Woolf nell'ultimo ventennio del 1800. Cent'anni prima di lei Mary Wollstonecraft aveva scritto Dei diritti delle donne, ma 400 anni ancora prima Christine de Pisan, prima redattrice e editrice professionista alla Corte di Francia nel 1400, aveva scritto La città delle dame. Come Mary Wollstonecraft si oppose polemicamente a Rousseau, così Christine si oppose fieramente a Jean de Meung e Boccaccio, entrambi autori cinici e misogini, che parlano delle donne esclusivamente in termini di frivolezza, stupidità e lascivia. Rousseau scrisse, sono naturalmente portate per la frivolezza. Tali autori e testi misogini sono tutt'oggi inclusi nei programmi e testi scolastici. Christine e Mary sostengono che non sono affatto naturalmente portate, bensì addestrate, fin da bambine, poiché non viene permesso loro di studiare e dalle adulte non imparano altro che stupidaggini. Nel corso dei secoli sono tante le donne che hanno vissuto questo copione. Ogni tanto se ne reincarna una, tutte loro hanno insistito sull'importanza fondamentale di dare un'istruzione alle bambine. Nel 1400 Christine, nel 1700 Mary, nel 1900 Virginia. Marie Curie istruì personalmente le sue due figlie femmine anche nelle materie scientifiche. Gabriela Mistral, derisa nel Natio Cile, fu chiamata in Messico a riformare l'istruzione. E oggi siamo ancora qua, con la scuola delle donne in cerchio, ad arrangiarci da sole, poiché una vera istruzione ufficiale che comprenda anche la parte femminile ancora non c'è. Christine de Pizan, come Mary Wollstonecraft, dovette arrangiarsi a guadagnarsi da vivere. La prima, rimasta vedova con figli e madre a carico, mise a frutto la sua capacità di scrivere e leggere e divenne redatrice a pagamento di qualsiasi cosa le venisse commissionata, dalla storia delle famiglie regnanti ai manuali della caccia. Scrisse perfino di finanza e di armi. Organizzò un atelier dove alle sue dipendenze lavoravano miniatrici e copiatrici che realizzavano, naturalmente a mano, tante copie del libro quante ne venivano richieste dalla committenza. All'epoca le vedove non venivano protette né aiutate. Se non avevano mezzi di famiglia, si ritrovavano in povertà. La fortuna di Christine fu che sapeva scrivere, così poteva evitare di andare a fare la lavandaia, o peggio. Come Mary, Christine fu artefice della sua propria fortuna e in seguito si attivò per scrivere a favore delle donne e contro la misoginia. Infatti, impiegò 14 anni a vincere la causa che aveva intentato contro i debitori di suo marito i quali non volevano saldare a lei il loro debito una volta che il marito morì. Questo perché per legge le donne non avevano diritti. Sia Christine che Mary scrivono sull'importanza che i mariti comunichino alle mogli i loro affari, poiché altrimenti, in caso di vedovanza, le donne si trovano nei guai, non avendo alcuna idea dell'attività dei loro mariti. Come Mary, che ebbe una vita libera e fece parte di un circolo intellettuale al quale apparteneva anche il suo editore dell'Analytical Review, così Virginia Woolf, insieme alla sorella Vanessa, creò il gruppo di Bloomsbury, praticamente una vera e propria comunità dove spesso vivevano tutti insieme in modo molto libero. Di questo gruppo faceva parte Leonard Woolf, che fu marito ed editore di Virginia, con la sua casa editrice e la Hogarth Press. Le due sorelle e i loro amici avevano occupato un appartamento nel quartiere londinese di Bloomsbury, vicino alla biblioteca e all'università. Mangiavano, scrivevano, discutevano e vivevano insieme nel grande appartamento che le ragazze affittarono dopo la morte del padre, lasciando la vecchia e triste casa di famiglia. Nel gruppo di Bloomsbury c'era una costante tensione ideale verso la verità che io identifico come una inconsapevole tensione spirituale. Le due sorelle avevano avuto un precettore, ma ciò che riuscirono a fare, in particolare Virginia, non fu certo dovuto alle poche nozioni ricevute dall'istruzione ordinaria che toccava alle ragazze, bensì al continuo lavorio di confronto nel gruppo di amici, durante il quale Virginia racconta che a volte le capitava di andare in estasi. Evidentemente aveva risvegli di memorie durante i confronti in cerchio con compagne e compagni di vita, come capita a noi in questa scuola delle donne. Risvegli di memorie delle comunità neolitiche matrifocali. Non a caso il gruppo di Bloomsbury fu fondato da due donne, Virginia e Vanessa, dato che Virginia credeva nella reincarnazione e lo scrisse chiaramente nell'aneddoto sulla sorella di Shakespeare, in Una stanza tutta per sé. Onorando il fattore risonanza, osserviamo che in modo parallelo Mary Wollstonecraft, grazie al confronto con gli altri membri del circolo intellettuale, facente capo all'Analytical Review con cui lei collaborava, ebbe risvegli di memorie che la portarono alla sua magnifica lucidità e consapevolezza. Il confronto in cerchio da sempre conduce al risveglio. Alla base dell'indipendenza di queste donne c'è sempre il fatto che furono in grado di liberarsi dalle famiglie e soprattutto dai padri. Ricordiamo Charlotte Bronte, che fu bloccata dal padre, o la poeta Elizabeth Barrett Browning, che dal padre fuggì addirittura, o Emily Dickinson, che dal padre si nascose. I circoli di intellettuali erano delle specie di comunità in cui l'inconsapevole azione cerimoniale del sedere in cerchio destava memorie e creatività. Virginia e Catherine Mansfield, Nuova Zelanda, 1988 Virginia aveva sicuramente doti medianiche, non era pazza quando si suicidò, ma poiché nel suo circolo intellettuale la spiritualità non veniva seriamente presa in considerazione, fu costretta a reprimersi. La scrittrice neozelandese Catherine Mansfield fu la sua nemesi. Con la Hogarth Press, Virginia pubblicò racconti di Catherine, la quale, al contrario di lei, seguì l'impulso spirituale che la portò a vivere gli ultimi mesi della sua vita, morì a soli 35 anni di tubercolosi, presso la comunità di Gurdjieff, il maestro spirituale armeno che aveva fondato un centro fuori Parigi. Preso atto che il suo corpo non guariva, Catherine decise di cercare un rimedio per la sua anima e smise di prendere medicinali. Quando lasciò il corpo, Catherine era quasi trasfigurata dalla grazia e dalla pace che aveva trovato. Virginia fu attratta da Catherine poiché questa riconobbe e soddisfece l'impulso spirituale, mentre Virginia allora presse, appunto perché il suo gruppo, che dichiarava di opporsi al bigottismo vittoriano, doveva necessariamente essere laico e ateo. Lo stile di Catherine è molto simile a quello di Virginia, la quale ammette che Catherine avrebbe potuto essere sua concorrente. Le frasi sono pennellate che raccontano pensieri, non storie. Se Virginia inventò lo stile femminino, Catherine lo perfezionò, perché fu una scrittrice di piccoli attimi di emozione, di piccoli gesti quotidiani. Entrambe furono intimiste, meditative, mistiche. Catherine trovò il modo di fare ciò che non riuscì a Virginia, ossia dare spazio allo svolgersi dei pensieri senza snaturare la narrazione del fatto. Catherine racconta brevi momenti di vita, come i ricordi della sua infanzia in Nuova Zelanda. Il racconto ha la giusta misura che permette di narrare senza appesantire. La mente duale è allenata a comprendere solo ciò che ha un inizio e una fine e trova faticoso accettare la scrittura aspaziale e atemporale di Virginia. Probabilmente la vera Virginia non esce nei romanzi, ma nei saggi. Una stanza tutta per sé del 1929 e tre guinee del 1938, nei quali, non dovendo tener fede alla sua filosofia stilistica del romanzo, può permettersi di scrivere in maniera lineare e comprensibile. Tre anni dopo, Virginia Woolf si suicidò, a 59 anni, perché si rese conto che nulla cambiava. Nelle sue opere preannunciava il suicidio e ne svela le cause a chi è in grado di accorgersene. Scrive «Le donne si trovano tra scille e cariti. Dietro c'è il sistema patriarcale, le pareti domestiche con il loro nulla, la loro immoralità, la loro ipocrisia, il loro servilismo. Davanti c'è il mondo della vita pubblica, ossia il mondo del lavoro con la sua possessività, la sua invidia, la sua aggressività, la sua avidità. L'uno ci tiene prigioniere come schiave nell'arem, l'altro ci obbliga come bruchi in fila a fare il girotondo attorno all'albero sacro della proprietà privata. La nostra è una scelta tra due mali, l'uno peggiore dell'altro. Non faremo meglio a buttarci nel fiume, a rinunciare alla partita, a dichiarare che la vita umana è un errore e farla finita. Virginia si rese conto che nemmeno il lavoro era la strada per l'emancipazione femminile e a quel punto, avendo rinunciato a seguire l'impulso spirituale, non vide più una via di uscita. In una stanza tutta per sé scrive «Perché sono così povere le donne?». Finché questa domanda diventava 50 domande e queste 50 domande saltavano disperatamente nel fiume e si perdevano tra i suoi flutti. Virginia lascia chiare tracce del suo prossimo suicidio, per chi le sa scorgere. È evidente che non era pazza. Aveva visto che nella dimensione duale non c'era risposta. Tre anni dopo aver scritto questo, si gettò davvero nel fiume, con le tasche piene di pietre, e annegò. Tra Virginia e Catherine c'è un legame di sottofondo che c'è tra tutte le nostre antenate, le quali camminano sempre collegate in un modo o nell'altro e ricreano le radici del grande albero della visione femminina. È il fattore risonanza. Nel diario di una scrittrice, Virginia parla del mestiere di scrittrice come di una forma di prostituzione dell'anima. Scrive, una donna che non è libera di scrivere ciò che vuole, ma lo fa per mestiere, perché si deve mantenere, non è una donna emancipata. Qui si vede il lascito di Virginia, strumenti perché le donne possano proseguire il cammino, anche se si rende conto lei di essere arrivata al capolinea. C'è un momento in cui le donne devono scrivere perché ciò le libera, altrimenti non possono arrivare a rendersi conto che anche scrivere non è la risposta. Durante la stesura di tre guinee e di una stanza tutta per sé, si rese conto che anche lo studio e la scrittura erano inutili, e che non c'era nulla da fare, e si domandò «Allora, cosa facciamo?» La risposta può essere solo «Abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo dato il nostro contributo, ma la dualità non si può sconfiggere». Ricapitolando dunque il fattore risonanza di Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft incarna la sua passione politica e la lotta femminista, la parte di lei che avrebbe voluto andare alle barricate, mentre Catherine Mansfield è la sua parte spirituale, la scrittura intimista dell'attimo. Sono tappe che portano alla non azione, poiché, realizzò Virginia, qualunque agire è inutile. Brani tratti da tre guinee di Virginia Woolf, panorama del patriarcato. Lascio nella descrizione sotto al video i link alla lettura integrale di tre guinee e di Una stanza tutta per sé. Sul canale La Scuola delle Donne In questa serie di riflessioni Virginia rileva la disparità di stipendi tra impiegate donne e uomini, polemizza sulla visione patriarcale che i lavori svolti dalle donne dovrebbero invece essere svolti dagli uomini disoccupati, che così poi potrebbero sposare le donne e mantenerle, e le donne a casa a fare le donne, tra virgolette. Virginia fa notare che le donne non hanno diritto a stipendio per il lavoro di madri, nonostante sia l'unico lavoro che non ha mai fine. Infine, rileva che il diritto morale delle donne a possedere metà dei beni del marito non viene rispettato perché le donne spontaneamente lasciano la gestione dei loro beni agli uomini e in genere si accontentano. È opinione di Virginia che la guerra dipenda dalla discriminazione dei sessi, perché è agli uomini che piace combattere e la società è impostata secondo la visione maschile. Le donne devono guadagnare per emanciparsi e tuttavia qualunque professione è per loro indesiderabile. La domanda è come possiamo, pur lavorando, restare umane e aborrire la guerra? Proviamo a cercare le risposte nelle biografie, questa volta delle donne che hanno esercitato le libere professioni. Purtroppo, però, nelle biografie non si trovano risposte perché non esistono biografie di donne. L'unica professione riconosciuta è la governante e anche di questa ci sono ben poche biografie. Virginia cita dal diario di una governante «Oh, come ardevo dal desiderio di imparare il latino, il francese, le lettere, le arti, qualunque cosa, piuttosto che la noia di cucire, far lezione, copiare in bella scrittura, lavare i piatti tutti i giorni. Perché alle ragazze non permettono di studiare fisica, astronomia, teologia, chimica, botanica, logica e matematica? Virginia recensisce alcune colleghe scrittrici con amicizia e profondità. Solo una maestra può parlare di altre maestre senza competitività. In particolare ha parole di elogio per Catherine Mansfield che lei pubblicò e di cui ammirò la spiritualità e la capacità di osservare e sentire i dettagli e di Mary Wollstonecraft di cui dice meraviglie sentendo forte la sua combattività e il suo coraggio. Parla in modo positivo di George Sand e di Elizabeth Barrett Browning ha grande solidarietà ed empatia per tutte. Virginia era cosciente che le donne debbono sostenersi a vicenda anche se non se ne rendeva conto ma aveva lo spirito e il sentimento della sorellanza. Una lunna fa notare che tra le donne persiste la competizione. Un'altra nota che il conflitto è la forma di vita dilagante da cui si fa fatica a uscire anche tra coloro che seguono un cammino spirituale. Un'altra ancora nota che forse ai tempi di Virginia le donne erano più in contatto con se stesse. Mentre oggi c'è tanta distrazione viene menzionata la professione di youtuber e si nota che più ci si toglie valore e più si acquistano followers, seguaci. Un'altra alunna fa notare che è proprio l'attrito che aumenta l'audience e quindi viene alimentato. Scrive Virginia La notorietà abbaglia e fuorvia come le marce e le medaglie con il loro potere ipnotico. Dobbiamo estinguere le luci volgari della pubblicità manovrata da mani incompetenti. La mente può essere preservata solo nell'oscurità. Questa è un'allusione inconsapevole al vuoto sciamanico secondo me il tutto indifferenziato prima che nasca la forma. Continua Virginia la pubblicità impedisce alla mente di cambiare e creare perché crea rumore e frastorna. Come si integra questa sua sensazione che lo studio sia inutile con il diritto allo studio stesso? E qui nasce la crisi di Virginia perché non ha trovato una via percorribile. La scuola delle donne in cerchio probabilmente sarebbe stata la sua risposta introdurre nello studio la spiritualità in modo consapevole e ufficiale. Senza la guerra verrebbe a mancare lo sfogo per le virili virtù che si sviluppano combattendo scrive Virginia. Ecco perché per evitare la guerra bisogna dar potere alle donne. Ma cosa imparano le ragazze all'università? A odiare la guerra? O a giustificarla? Imparano la competizione perché la scuola è conformata al modello patriarcale. Virginia si chiede a cosa ci sia servito avere il diritto di voto? A votare gli uomini? O a votare donne che si comportano da uomini e operano secondo il modello patriarcale? Quando gli uomini dicono che vanno a combattere per proteggere la patria scrive Virginia le donne non possono condividere questa tesi perché quanta di quella patria appartiene a loro? Cos'è che le donne dovrebbero proteggere e difendere se non hanno nulla? Non hanno beni non hanno retribuzione e alla morte del marito possono essere lasciate in miseria perché tutto passa al figlio maschio quindi le donne non sono motivate a combattere per difendere la patria perché non ne hanno una e se sposano uno straniero assumono per legge la nazionalità del marito. Al fratello che va a combattere per la nostra patria tra virgolette la donna dirà la nostra patria mi ha trattata da schiava mi ha negato l'istruzione e qualunque partecipazione alle sue ricchezze. Per finanziarsi gli studi le ragazze rinunciavano a una sana alimentazione in tante morivano di tisi per questo motivo. Virginia scrive sulla disparità di trattamento tra i collegi femminili e quelli maschili batte molto sulla retribuzione del lavoro delle donne e sostiene che anche la professione di moglie e madre sarebbe più ambita se garantisse l'indipendenza economica. I Vangeli dicono che Joshua considerava uguali uomini e donne ma il clero si appellò alle scritture di Paolo per vietare alle donne anche la professione religiosa. Ai tempi di Joshua esistevano le profetesse e le scritture ne parlano quindi perché escluderle da sacerdozio. Ma Paolo creò il pensiero della chiesa cattolica alterando il pensiero di Joshua stabilì la differenza tra profetessa e diaconessa scrive Virginia la donna non può esercitare autorità sull'uomo questo dice Paolo e per questo la chiesa le nega il permesso di esercitare il sacerdozio. Paolo di Tarso sosteneva addirittura che la donna per natura fosse inadatta ad accogliere la grazia dello spirito. Mentre le profetesse erano volontarie e quindi non retribuite le diaconesse erano il corrispondente femminile dei sacerdoti ma non potevano aspirare a far carriera nell'ordine religioso e infine scomparvero quando la chiesa divenne un mestiere e chi ne faceva parte cominciò a percepire denaro scrive Virginia l'arcivescovo guadagna 15.000 sterline all'anno la diaconessa 150 pagare di più le donne significava pagare di meno gli uomini perché la chiesa è povera scrive Virginia e a quel punto le donne uscirono di scena. Virginia analizza una serie di assurdi copioni maschili che limitavano la libertà femminile che lei chiama fissazioni infantili i padri che non consentono alle figlie di sposarsi vedi Charlotte Bronte e Elizabeth Barrett Browning i padri che non consentono alle figlie di farsi pagare per il loro lavoro mentre lo permettono ai figli maschi la motivazione è che gli uomini devono mantenere le mogli e i figli mentre le donne no ma dice Virginia la vera ragione è che i padri perdono il controllo sulle figlie se queste guadagnano soldi si nota che l'artista Beatrix Potter fu ostacolata dalla madre e non dal padre ma naturalmente anche le madri erano inquadrate nella visione patriarcale spesso anche più degli uomini e inoltre l'addestramento alla competizione e al conflitto che si riceve fin da piccole fa sì che le madri si rivalgano sulle figlie anziché sostenerle l'indipendenza economica è collegata alla virilità e pertanto non può essere femminile l'uomo è orgoglioso di mantenere una o più donne siamo sempre nell'elenco delle fissazioni infantili descritte da Virginia Woolf a proposito del patriarcato la fissazione infantile dei padri che negano felicità e libertà alle figlie era sostenuta dalla legge della proprietà la donna che disobbediva al padre non poteva poi esercitare nessuna professione legale perché quando si fosse risaputo che la ragazza non aveva il permesso del padre per lavorare non le sarebbe comunque stato permesso di fare nulla di lecito in La signora di Wildfield Hall di Anne Bront la protagonista chiede al marito che la tradiva e non l'amava il permesso di andarsene ma lui non glielo dà e lei per potersi liberare è costretta a scappare mettendosi al di fuori della legge Virginia stessa fu considerata una figura minore fino all'uscita della commedia Chi ha paura di Virginia Woolf del 1962 dove viene associata alla minaccia rappresentata dalla presa di coscienza delle mogli e alla loro emancipazione da questa immagine negativa ebbe inizio il recupero dell'opera di Virginia che tutto sommato rispetto ad altre ha durato poco tempo ad essere conosciuta se si pensa che Hildegard di Wingen è rimasta sconosciuta per un millennio brani tratti da una stanza tutta per sé di Virginia Woolf analisi dell'emancipazione femminile nessuno potrebbe dubitare che in Inghilterra vige il sistema patriarcale scrive Virginia il professore che scrive libri sulle donne è il proprietario del giornale ed è il suo direttore e redattore egli è il ministro degli esteri e il giudice egli paga gli azionisti e capitana la squadra di cricket egli lascia milioni in beneficenza ai collegi maschili che lui stesso dirige ed è lui che scrive delle donne come Virginia vede il denaro la società mi dà polli caffè alloggio e trasporto in cambio di un certo numero di pezzi di carta lasciatimi da una zia per il solo fatto che porto il suo nome quegli innumerevoli libri sulle donne scritti da uomini nel novecento forse dobbiamo biasimare la campagna per il voto alle donne questa deve aver originato negli uomini uno straordinario desiderio di autoaffermazione li deve aver indotti a considerare il loro sesso con una enfasi che mai si sarebbero sognati se non fossero stati sfidati e quando si è sfidati anche se da parte di un gruppetto di donne malvestite affamate si risponde sempre in maniera esagerata Virginia constata che vi è una continua ripetizione della parola io nella letteratura maschile e la trova piuttosto noiosa gli uomini scrivono con il lato maschile del cervello e le donne vi cercano qualcosa che non trovano definisce implicitamente che la scrittura maschile sia fatua e pomposa una donna non riesce a scovare nelle opere maschili quella fonte di perpetua vita questo è un concetto spirituale di cui lei non è consapevole razionalmente Virginia ha sprazzi di coscienza spirituale e risvegli di memorie sciamani che molto evidenti a una lettura attenta fatta da donne risvegliate gli uomini scrive celebrano le virtù maschili sostengono i valori maschili e descrivono il mondo degli uomini e le loro emozioni quindi quando le donne leggono i libri degli uomini cosa assimilano ancora oggi preferisco un racconto in cui si parla di un negozio di cappelli o di una sala da tè piuttosto che l'ennesimo racconto su Napoleone o sulla guerra perché un racconto sulla guerra è nobile e uno su un negozio di cappelli no questa è la critica alla visione patriarcale in letteratura secondo Virginia nella quale troviamo conferma della giustezza del cammino intrapreso con la scuola delle donne in cerchio le donne non hanno avuto tempo di scrivere perché sono state impegnate a partorire nutrire e crescere fino ai sei anni i milioni di esseri umani che popolano il pianeta Virginia ha profonda innata empatia e compassione verso la sorellanza scrive letteralmente mi piacciono le donne si pensi anche al rapporto di affetto e tenerezza che ha con la sorella Vanessa ancora Virginia scrive non tentate di influenzare gli altri scrivendo tentate di essere voi stesse questo atteggiamento meditativo spirituale è il punto di arrivo di una donna risvegliata non pazza come ce la descrive la critica patriarcale ma la società e il marito la consideravano pazza e non la sostennero nei suoi momenti di presa di coscienza e lei ne ebbe paura si sentiva strana e diversa e non capiva cosa le stesse succedendo lo stile di scrittura di Virginia è non lineare vi è sia una componente stilistica derivante dall'uso dell'emisfero femminile intuitivo del cervello sia una componente spirituale il tempo non esiste la realtà è creata da chi la osserva esiste la percezione che crea la realtà in un diario del 1928 Virginia descrive questa nuova forma di realtà come parte della natura scrive questa è una delle esperienze che ho avuto ho preso coscienza di ciò che chiamo realtà una cosa che vedo davanti a me qualcosa di astratto ma che risiede in basso o in alto accanto al quale nulla importa in cui riposerò e continuerò ad esistere la realtà la chiamo e a volte penso che questa sia la cosa più necessaria per me quello che davvero cerco la sua è una spontanea tensione mistica verso l'annullamento nell'infinito o nella frequenza unitaria basata anche su intuizioni quantiche come quella che fu già di Margherita Porete di Teresa de Lisieux e di Catherine Mansfield ora si fa la meditazione e si convocano Camille Suzanne Virginia Christine e Mary per chiedere risposte queste le risposte delle alunne la prima alunna dice sono andata da Mary che mi ha incitata a cambiare gli stereotipi dentro di noi e poi da Camille che mi ha detto che se impariamo a mostrarci per ciò che siamo non potremmo che essere fiere di noi stesse la seconda alunna dice sono andata da Camille e ho sentito la gabbia nella quale è stata reclusa tutta la vita ho fatto una visita in carcere di recente per un progetto e mi sono resa conto di cosa significa non avere libertà il messaggio è sfondare la gabbia la terza dice ho visto tante antenate e la mia nonna che mi ha dato un messaggio sulla libertà la quarta dice mi sono trovata subito davanti Virginia che è rimasta con me per tutto il tempo non mi ha detto nulla e mi sono sentita cadere violentemente poi qualcosa mi è entrato nella pancia la luna viene ripulita con un canto alla fine della lezione la quinta alunna dice ho visto nebbia e sofferenza e mi è salito il pensiero che la verità è nascosta la sesta alunna dice ho visto tante donne e ho chiesto cosa possiamo fare e mi sono apparse una serie di finestre con le sbarre io devana le ho viste tutte e ho visto un rotolo che si srotolava nell'utero come se l'utero si potesse srotolare contenendo tutte le informazioni l'albero della conoscenza sono le donne non è un qualcosa da raggiungere quindi il colpo alla pancia che ha sentito l'altra alunna è l'utero srotolato ci si alza tutte in piedi si fa la richiesta di una medicina per sciogliere le sbarre e arriva un grosso tronchese che taglia tutte le sbarre e libera le donne tutte insieme appoggiamo il tronchese alle sbarre e tagliamo per tutte e tre le sbarre più serene e sollevate ringraziamo e chiudiamo il cerchio fine della quarta classe conoscenza 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 Grazie a tutti